Musica Benvenuti ragazzi in questo nuovo video e oggi andrò a farvi vedere come si fa ad evocare Aerobrine innanzitutto dovete avere la versione 1.8.1 e creare un nuovo mondo ve lo consiglio ve lo consiglio tanto ma tanto perché se poi lo evocate in un mondo in cui li tenete tanto ci sarà un bel problemino lo chiamo Aerobrine è fatto creativa ovviamente trucchi on cioè strutture off un mondo ormai un mondo ormai bonus off creiamo questo mondo ragazzi questa è una cosa senza mod devo dire senza mod ma tutto grazie a un comando e un command block è una cosa fortissima ragazzi adesso carica il mondo adesso carica il mondo è un po' più lento in 1.8.1 che invece che in 1.13 ecco 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 qua la macchina sarà molto aglombrante comunque dobbiamo procurarci una torcia di redstone ecco e un command block che si attiene così quindi slash jave rs92gamer o il vostro comunque il vostro nome potrete fare minecraft ovviamente staccato io ho sbagliato minecraft due punti command trattiglio basso block e poi dite la quantità in questo caso 1 ed ecco qui il nostro command block ora vediamo un po' qua io vi consiglio anche di equipaggiarvi quindi adesso lo facciamo subito perchè sarà veramente una cosa cioè una roba non vi viene anche parola per descriverla perchè è veramente una cosa impossibile ecco poi prendiamo anche una spada di mante metto qua se no dopo ce la toglie ehm se avete paura dei mostri come me però io lo faccio per farvelo vedere perchè sono buono se avete se avete paura dei mostri vi consiglio di non farlo perchè ce ne saranno tanti qua ora dovete andare su questo sito che è ij a minecraft.com slash cmd slash aerobrine tra giro basso boss slash vedete ora dovete andare get the command e poi qua fate niente fate copy del command su minecraft e incollarlo fatto e qua vedete si sta creando la vostra macchina ecco qui ci sono ci sono questi tre cartelli ecco ero aerobrine command b e il sito che vi ho detto no? get items prendiamoci da questi e poi destroy perchè dovete distruggere la macchina dovete farla un po' vicino iniziate a mettere i blocchi d'oro e poi così i blocchi di carbone e poi infine qui l'armatura ragazzi togliamo tutto tentate per farvi vedere questa super cosa che si sta creando io vi consiglio di allontanarvi e sarà molto spaventoso all'inizio molto preparate queste se io mi direvo già verso la macchina sappiatelo perchè appena si evocherà ragazzi io la farò esplodere io ve lo faccio vedere quando avrò distruggere la macchina perchè quando si distruggere la macchina sta lì aerobrine però non ti fa niente ok ragazzi si ho paura e se quello cubo lì è il cuore di aerobrine adesso si farà un fuoco d'artificio e poi quando esplode ecco quell'artificio ci sarà dentro aerobrine ecco ragazzi molto spaventoso molto 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 non avete paura ragazzi sono io qui con voi non arrabbiate paura e ora stai 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 perché ne arrivano altri? io ho finito con i suoi ragazzi mi sa che ci distrutto il cartello sa che ci distrutto il cartello non so se riuscirò a sentirmi vogliamo combattere mi sa purtroppo salutatemi ragazzi salutatemi perché morirò Aerobrine non sembra stare tranquillo fa niente incredibile comunque ragazzi ve lo assicuro questo è Aerobrine io ho paura di girarmi troppo però questo è Aerobrine è un diritto a vivo poi ma è un problema ma secondo me è un diritto a vivo perché sono in creativa e ragazzi io per questo video rimarrò in creativa io vi do un compito ok sa che l'ho ucciso comunque intanto che guardiamo se mettete almeno 15 mi piace farò un video in cui lo affronterò in survival ve lo ridico con i suoni abbassati quindi se lasciate 15 mi piace io lo affronterò in survival ragazzi solo se voi mettete 15 mi piace sono pochi sono pochi potete mettere 15 mi piace potete ne so sicuro potete potete mettere 15 mi piace se non lo fate non combatterò Aerobrine ok quindi adesso andiamo a vedere cosa è successo la macchina mi sa che ci sono tutti i cartelli sapevo di sì vedete qua non ci sono più c'è ragazzi sono stato troppo qua è tutta colpa mia sono stato troppo qua e le palle di fuoco hanno distrutto la macchina e erba è ancora sopra quindi io darei anche una buona spalata how dare you oh mio dio ragazzi oh mio dio il nostro video si chiude qua ci vediamo nel prossimo video ciao